Per la costruzione, stiamo arrivando a Manstabolo Beach, in Corsara. Il che spargia a casa di uno, la rete rona infezione del battimento, dove non metterà l'area della plazza di Ancala Corsara. La isla è spargita per noi, ora facciamo la condizione della costruzione. La prima parola all'aplazio è Ancala Corsara. Ancala Corsara 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 Ancala Corsara